mister la vigilia di entella pescara ultimi 90 minuti del campionato una partita importante perché oltre alla crescita di giovani fondamentale nel settore giovanile ci si gioca anche un obiettivo stimolante immagino anche per i ragazzi ma sì sicuramente se siamo arrivati alla fine di questo campionato un campionato dove comunque questi ragazzi sono riusciti ad affrontarlo bene infatti hanno anche la possibilità magari di raggiungere un obiettivo diciamo numerico diciamo di piazzamento oltre a aver raggiunto magari un buon obiettivo nella loro crescita e nelle loro prestazioni che hanno fatto durante l'anno. Chiedo se te l'aspettavi il suo anno di arrivare a 90 minuti alla fine del campionato in questa posizione e se queste sono le partite quelle che valgono di più anche proprio per la crescita del singolo giocatore anche nella gestione magari di un po' di sana adrenalina che immagino ci sarà? Ma aspettavo nel senso di cercare di ottenere qualcosa dai ragazzi poi gli obiettivi di di classifica non ne erano stati dati e comunque si sapeva che doveva essere un campionato facile ovviamente abbiamo fatto a livello di numeri meglio di quello che ci si pensava di fare però a livello di di settimana è stata una settimana come come le altre nel senso che questi ragazzi se sono arrivati alla fine neanche potessi giocare qualcosa a livello di numeri probabilmente è dovuto al fatto che hanno pensato che anche prima le partite erano molto importanti quindi questa lo è come come le altre 29 ecco questo sì. Cosa direi alla squadra prima di questa partita? Ma io penso che questi ragazzi non gli devo dire niente di più perché loro da solo e forse più loro di me hanno guardato spesso la classifica e quindi vorrebbero ottenere questa cosa qua però io penso che loro hanno raggiunto un grosso risultato dal punto di vista che hanno avuto una bella continuità di rendimento nell'arco dell'anno ecco questo secondo me è la cosa che li deve rendere onore e piacere a loro stessi perché non è non è facile avere una costanza di rendimento così alta ecco indipendentemente se a volte abbiamo avuto risultati più positivi o meno ma la cosa sicura è questa ecco che hanno avuto delle prestazioni sempre positive anche quando magari si è perso